Bene, buongiorno, benvenuti. Allora, io sono Simona Finesi, assieme ad Angelo Dada siamo gli editori di Platform. Torniamo in questo luogo dopo otto anni, perché qui lanciamo Platform, che nasceva dopo dieci anni di ADM, Architettura Design Materiali, perché questa rivista ha avuto un suo percorso lungo e di trasformazione. Perché abbiamo voluto fare questa iniziativa? Allora, noi, è un po' nella nostra cifra stilistica quella di identificare delle tematiche, di fare dei focus e selezionare dei progetti che possano esprimere e raccontare il mondo della progettazione. Viviamo in un'era particolarmente fluida, la trasformazione che stiamo vivendo, in cui ne siamo assolutamente coinvolti e travolti, partecipa alla nostra vita in tutti gli aspetti, direi che da quando si sono introdotte in modo particolare le tecnologie esponenziali, i social media, diciamo che c'è un'accelerazione e un cambio totale di stili di vita. Questo ovviamente si ripercuote anche nella progettazione. Quindi era da tempo che si voleva indagare la progettazione degli spazi domestici, che sono gli screen, i luoghi più intimi della nostra vita, che già prima della pandemia stavano subendo una trasformazione in termini proprio di disposizione degli spazi, di fluidità degli spazi che tradizionalmente venivano adibiti a usi più conformi alla vita di un tempo, mentre negli ultimi anni avevamo già registrato un cambio in questa direzione. Poi cosa è successo? È successa la pandemia, come tutti sappiamo, questa è stata una forma gigantesca di alfabetizzazione digitale forzata anche delle categorie che per generazione non erano nativi digitali e che quindi magari anche pur avendo un'attitudine e una propensione alla tecnologia non erano appunto nativi digitali perché è un discrimen sostanziale. E anche queste categorie hanno dovuto forzatamente iniziare ad utilizzare degli strumenti che altrimenti probabilmente non avrebbero mai utilizzato comunque in modo diverso e più lento. E questo ha modificato ulteriormente gli stili di vita. Quindi il luogo abitativo è diventato, sì, certamente il nostro mondo è diventato il perimetro del nostro mondo per quasi un anno perché comunque abbiamo avuto diversi lockdown e quindi ha dovuto assumere anche delle funzioni diverse. La nostra casa è diventata spazio di lavoro, è diventato luogo di socialità perché ricordiamoci tutte queste dirette Instagram, webinar dove ormai le nostre case facevano da sfondo e quindi in qualche modo il mondo l'abbiamo fatto entrare nel nostro luogo privato. Fortunatamente, ormai diciamo anche se non totalmente ci possiamo dire tornate a una vita più o meno normale, ma qualche cosa si è diventato di questa esperienza e quindi questa modificazione, questa trasformazione che era proprio all'inizio, aveva dimostrato qualche prodromo prima della pandemia, ha sicuramente avviato un processo molto più veloce. Quindi con Siemens che è partner di platform ormai per il secondo anno abbiamo colto questa occasione, questa opportunità di fare un'indagine attraverso la selezione di progetti che potessero rappresentare, anche se in modo diciamo all'inizio è un brindionale questa trasformazione, ma soprattutto la giornata di oggi vuole essere non tanto il vostro racconto del progetto che è stato selezionato, ovviamente siete liberi di farlo, ci mancherebbe, però questo è già raccontato dalla pubblicazione e diciamo le pubblicazioni future che faremo. Ci piacerebbe quello che vi abbiamo chiesto di avere da voi un vostro punto di osservazione, una vostra visione sul tema appunto del future living, di come, che non è soltanto spazio abitativo, ma il termine abitare in senso anche proprio etimologico, cioè abitare prima di tutto noi stessi e quindi rappresentare il luogo dove abitiamo come immagine riflessa della nostra anima, del nostro stile di vita. E quindi oggi ci aspettiamo, anche registrando i contributi, è un po' come fare un grande brainstorming tutti assieme e cercare di vedere se si intravedono delle linee future, delle linee guida, delle visioni che possano rappresentare quello che accadrà. Ringrazio Siemens che ci ha supportato con grandissima fiducia su questo progetto, tenete conto che i progetti scelti e selezionati non contengono prodotti Siemens, quindi io faccio veramente i miei complimenti alla capacità di visione che hanno avuto perché hanno veramente sposato questa idea di essere brand che indaga. D'altra parte questo è un percorso che è iniziato un po' di tempo fa, prima di tutto con l'architetto Francesco Librizi che è anche docente al Naba e che con gli studenti del Naba ha fatto uno studio meraviglioso di cui poi parlerà e da lì Siemens ha iniziato questo processo di indagine e anche di brand awareness verso il mondo dell'architettura seguendo degli step, seguendo una strategia proprio di racconto e di osservazione ancora prima. Quindi li ringrazio ovviamente per questo lavoro fatto assieme che non è soltanto questa pubblicazione ma questa pubblicazione diciamo un po' un punto di arrivo, un nuovo punto di partenza di un anno di lavoro. Bene, io intanto vi ringrazio per essere qua e spero che la giornata sia piacevole. D'altra parte ci piace vincere facile, abbiamo scelto una location che voglio dire, non è che diciamo che fa la sua buona parte della giornata. Io passo la parola a questo punto a Giuseppe Rago che rappresenterà Siemens e racconterà appunto in modo più dettagliato quello che oggi Siemens fa per il mondo dell'architettura. Vi ringrazio ancora e mi auguro che questa giornata sia interessante per voi.